buongiorno buonasera bro pomeriggio e oggi siamo qui con un altro video sfortunato perché non mi sfida nessuno questo vi giuro è l'unico che mi ha sfidato tranne un'altra persona che praticamente visto poi ho un preferito Deoxys che tipo di squadra sarà mai? poi sfido non mi accetta passano dieci minuti mi sfida solo per farsi la squadra di leggendari tutti al centro e quella partiti l'avrei caricata solo perché mi ha usato fulmine su Raidon vinta o persa c'era un altro sacco che mi stava dando fastidio però mi salza la connessione e purtroppo una partita decente contro un uberista che usa fulmine su Raidon ma vabbè andiamo a noi ho fatto una grande scemenza siiii forse servi tu registra dati usa adesso leggendo la scheda eccola quiiii contro il mitico penso non so non ho capito bene il sesso ZOIDOGAMM SUA SQUADRA CADABRA MEWAI AULUCIA SKITTY LO STATER DERBA DI CESNAH E' adesso devo DRIFFBLIM giusto o Driflund qual'era quello prima ma perché Driflind e' la rivoluzione vabbè la prima rivoluzione di Driflind che non vi ricordo di noi perché non l'ho allenato Eeeeeh e la mia squadra che escerò anche per il prossimo video perché questa non e' la lotta e Charizard, Raidon, Umbron che me lo avete consigliato voi, Suicune, Durant che me lo avete consigliato voi, e quell'over user della cribbia di Aegislash. Ora, questo è l'unico che mi ha sfilato, ha una squadra originalissima, però è successa una cosa a dir poco dispiacevole. Ovvero, la seguente. Il campo Cessnas, al livello 38 ragazzi, ebbene si, 38! Lancia fiamme, tanti saluti, 38, tenere il suo programma più forte al 38! Attenzione, Skitty, al 24! Mamma mia! Lancia fiamme. Questa non è una lotta, questa è una mattanza. Che neanche Kratos faceva le mattanze così rapidamente. Ha un Lucia, al 20! Oddio, poveretto, che fai un Lucia? C'è questa squadra? E' carina, dai! A stile! Mewile! Mewile! Al 18! Uuuuh! Questo sarà il video più corto che metterò sul mio canale, ma cercherò di allungarlo. Cadabra! Al 16! Non ho parole! Non ho parole! Non ho parole! Per una squadra bella, dai! Ah, Driflum! L'ho detto bene! Al 17! Incendio! Per il Gran Finale! E... Kaboom! Brutto colpo! Dopo questo! Dopo questo! Dopo questo! Dopo questo! ha sfidato con una squadra di media livello 20! E non è andato via! Io lo stimo! La stimo! Perché mi ha usato! Non ha usato! Mi ha mandati tutti alla mattanza! Stima più totale! Che video corto, però! Arrivederci!